Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per una nuova presentazione. Sì, siamo sempre in compagnia del nostro circuito e qualcuno dirà ma che palle, ma sempre lo stesso circuito, ma quando è che finiamo questo cavolo di progetto? Sicuramente ragazzi qualcuno lo penserà, non siate tini, scrivetemelo pure sotto nei commenti. Io stesso certe volte quando faccio alcuni progetti dico ma che palle, ma non è ancora finito, ma quando è che riuscirò a finire questo progetto? Per cui non siete gli unici a pensare questa cosa. Però purtroppo ragazzi, operando in questa maniera, o meglio andando avanti con questa maniera, ok, appunto facendo vedere ogni singolo piccolo passo, sono costretto quindi a fare una marea di presentazioni e non è colpa mia, chiudete un occhio ragazzi. Ok, perfetto, allora siamo sempre qua con il nostro circuito, ok, e adesso vieni avanti, non essere timido. Eccolo qua, o meglio eccola qua, chiamiamola appunto col suo nome, perfetto. Ce la ricordiamo, la nostra ventolina, ok, non dimentichiamoci di lei. Infatti mi ha detto prima, ma non ti sarei mica dimenticato di me, no? Eh, come la ragazza, per dire, ok, no, 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 mi sono ricordato. Ecco qui appunto la nostra ventola, che andremo quindi a fissare, ok, all'interno, non all'esterno della scatola. Perfetto, perché se noi la mettessimo all'esterno, poi ognuno ovviamente la mette dove vuole, perfetto, farebbe spessore. E questa qua è una piccola ventola, per cui automaticamente lo spessore stesso della ventola, ok, e, se non sbaglio, eh, non mi ricordo, sui 7 mm, sì, anche questa più o meno, ok. Cosa invece, se usassimo invece il ventolone, che è fin troppo ingombrante, abbiamo detto, perfetto, dovremmo appunto, se lo mettessimo appunto sull'esterno, darebbe veramente fastidio, perché lo spessore arriverebbe a questa, insomma, non a questa altezza, a questa sporgenza. Per cui automaticamente sarebbe tutto spessore inutile. E quindi poi magari la scatola si incastra, quando la mettiamo dentro da qualche parte, eccetera, eccetera, ok. Perfetto. Per cui invece usiamo la nostra ventola, ok, che di aria ne farà abbastanza, per cui crea un volume d'aria abbastanza sostanzioso, perfetto, e la metteremo quindi all'interno della scatola, perfetto, facendola comunicare con l'esterno tramite una griglia, ovviamente, altrimenti dice, eh, se non entra aria, come fa? Ve lo faccio alla fredale di dissipatore. Ok, perfetto, ragazzi, la metteremo, quindi, eh, se magari è quella luce lì, mi sta facendo arrabbiare. Ok, cioè all'incirca, così, in modo che il flusso d'aria prodotto colpisca praticamente l'alletta del dissipatore, raffreddandolo e quindi facendolo scendere, si chiama, con la sua temperatura, facendolo scendere di temperatura, mio Dio. Perfetto, bene. E più o meno la metteremo in questa posizione. Ed ecco all'incirca come viene. Ma se dobbiamo ancora costruirla, o meglio, dobbiamo ancora fissarla. Che pretese. Ok, ragazzi, perfetto. Ci vediamo nella prossima presentazione, dove forse la ventola sarà già attaccata. Ok? E ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima.